...parteggiando la regina Maria Sofia, la regina di Soldato. L'ultimo nostro relatore, l'ultimo soltanto in ordine di tempo, non certo che l'importanza, è il professor Dovenico Scafoglio, professore ordinario di antropologia culturale presso la Facoltà di Scienze della Popazione dell'Università di Salerno. È autore di 34 volumi e una noattina di saggi brevi pubblicati su riviste italiane e straniere. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo l'Uccidenza e le due della storia, l'Azia dei Giacobini, terre e briganti, brigantaggio cantato dalle classi subalterne, l'epos brigantesco popolare dell'Italia regionale, le notte col fucile, brigantesse dell'Italia post-Unitaria, la gloria del patibolo, santi briganti dell'epos popolare. Questi sono soltanto alcuni dei testi scritti dal professor Domenico Scafoglio che tra poco ci parlerà di bande e brigantesse nell'Italia post-Unitaria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.